Cosa puoi fare con 100 euro? Puoi comprare d'impulso un abitatore ad impulsi, una lampada a forma di gatto, o prenderti cura di un gatto, che sembra una lampada. Puoi andare in taxi da Milano a Lecco, ma puoi tornare in autobus. Puoi fare due lezioni di canto, o magari una di pugilato, o fare qualcosa di importante e iniziare ad investire con la competenza dei consulenti Crediagricol. Anche a partire da 100 euro, con Crediagricol. Investire è alla portata di tutti. Crediagricol.